ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video sul mio canale play doh game questo sarà un video speciale finalmente ho superato questi 1000 iscritti dopo un'eccessiva lotta di mesi 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 io in realtà speravo di raggiungere questi 1000 iscritti già nel primo anno invece no li ho raggiunti dopo più di un anno ma non è questo l'importante quanto piuttosto che ho raggiunto l'obiettivo grazie a tutti quanti voi e adesso invece tendo ad andare tutto da un'altra parte nel senso che voglio monetizzare il canale perché ho cominciato a fare youtube e perché ho continuato non avrei mai pensato di arrivare fino a questo punto qui a riuscire ad avere tutta questa costanza durante il tempo di riuscire a fare quasi non sempre un video alla settimana all'inizio mi sono dedicato un po su notizie poi mi sono buttato sul gaming non sono proprio portato per il gaming perché ho cominciato a fare il gaming su youtube cioè una bella domanda perché effettivamente non lo so neppure io c'è proprio non so giocare con i video giochi anzi c'è nel senso riesco a fare qualcosa di divertente però non vinco mai tutte queste cose sono un po troppo così ma in realtà era più per il tempo a disposizione che avevo non riuscivo a produrre cose abbastanza sensate ma il punto è che anche le cose buone ce le ho cioè tipo questa scheda audio c'ho tutte le cose per registrare eppure non ho mai fatto qualcosa di veramente figo che poi vabbè diciamolo che cosa è veramente figo e quindi non lo so iscrivetevi al mio canale mettete like e fate quello che volete raga ciao